In uno dei primi video del mio sito web, quindi credo a fine 2018 ho spiegato come creare un template in PSD per un sito web poi mi sono fermato lì, quindi non sono arrivato al passo successivo quindi non abbiamo mai visto come passare da questo template all'HTML reale ho ricevuto diverse richieste su questo video, quindi sul proseguire quanto ho visto in quel video quindi adesso andremo a vedere come invece passare da un template PSD a HTML CSS ci sono due metodi, allora il primo è quello classico, quindi andarci a scrivere proprio il codice HTML per il sito web che è quello che vedremo in questo video, però prima di andarlo a vedere vi voglio far vedere l'altro metodo che è un sito web tedesco che si chiama psd2web.de che vi permette di caricare il vostro file PSD e di ricevere quindi come risultato un file zip con all'interno il file HTML, i file CSS e tanti IPNG che vanno a sostituire le parti del sito web l'utilizzo di questo sito è davvero semplicissimo, basta cliccare su upload PSD file now caricargli il file PSD che è stato creato lui genera automaticamente il file zip da scaricare, lo scaricate e potete aprire il file HTML questo metodo ha alcune limitazioni, la prima limitazione è che non riconosce le maschere non riconosce gli stili, quindi deve essere tutto rasterizzato quindi non potete passargli un PSD con gli stili, dovete rasterizzare ogni livello e la seconda limitazione è che non converte le immagini in testo quindi i menu, i testi che avete inseriti saranno convertiti in PNG quindi saranno tutte PNG, quindi non avrete testi dovrete poi comunque andare a lavorare sul file HTML finale e dalle prove che ho fatto non è precisissimo ci sono delle imperfezioni, quindi alcune parti della pagina non sono realizzate così come sono nel file PSD ci sono degli errori, quindi ancora non è completamente funzionante infatti comunque è anche scritto sul sito web che è in beta quindi lo stanno migliorando però devo dire che per chi magari ha poca conoscenza dell'HTML e CSS per chi invece ha conoscenza ma vuole comunque partire già da una base quindi andare a ridurre i tempi può essere un buon punto di partenza comunque vi consiglio di salvarvi il sito web perché magari può esservi utile in futuro quindi tenerlo sotto controllo magari in futuro migliorerà e funzionerà meglio e vi permetterà di risparmiare davvero tantissimo tempo al momento ancora penso che sia troppo alle fasi iniziali quindi ancora non è sufficientemente funzionante per poterlo utilizzare però vi consiglio di seguirlo quindi psd2web.de detto ciò invece andiamo a vedere come lavorare quindi come convertire davvero un template psd in HTML io per la creazione dei sito web solitamente utilizzo Dreamweaver comunque potete utilizzare qualsiasi software preferiate quindi non c'è una regola precisa per questo potete utilizzare ad esempio Visual Studio Code il blocco note cioè davvero quello che preferite andiamo quindi a creare un nuovo file HTML titolo del documento possiamo mettere home page per il momento creiamo semplicemente un documento HTML5 con CSS scusate poi andiamo ad allegare il CSS quindi al momento non lo inseriamo Dreamweaver ci permette di associare già Bootstrap alla nostra pagina devo dire che per quanto riguarda questo video non utilizzeremo Bootstrap quindi andiamo semplicemente a convertire la pagina da psd ad HTML poi magari se volete possiamo vedere in un altro video come convertire una semplice pagina HTML quindi non come convertire ma come aggiungere Bootstrap ad una pagina HTML adesso semplicemente facciamo la conversione da psd ad HTML quindi ci creiamo la pagina clicchiamo su crea lasciamo il codice diviso così potete vedere direttamente le modifiche che andiamo a fare ci andiamo a creare anche il CSS quindi nuovo file CSS crea in questo modo abbiamo sia il file HTML sia il file CSS adesso andiamo a salvarci entrambi i file iniziamo dal file HTML salva con nome lo vado a creare sito HTML ovviamente potete dare un nome qualsiasi alla vostra cartella e il primo file lo chiamiamo index.html perché è la nostra home page salviamo e il file CSS andiamo su salva con nome e lo chiamiamo stile.css a questo punto andiamo a linkare quindi andiamo a inserire il nostro file CSS all'interno del nostro file HTML quindi il tag HTML link rel stylesheet la cosa utile di Dreamweaver è che ci dà dei suggerimenti quindi davvero possiamo velocizzare la scrittura del codice href e qui gli passiamo o clicchiamo su sfoglia e ce lo andiamo a prendere non lo ha preso oppure scriviamo semplicemente stile.css a questo punto possiamo chiudere il tag e salvare ok adesso abbiamo collegato il file CSS CSS al nostro documento HTML infatti vediamo che sotto all'HTML oltre al codice di origine mi ha linkato il file stile.css me lo ha linkato due volte non so per quale motivo comunque possiamo lavorarci sia da qui sia da qui ovviamente questo da Dreamweaver per altri software dovrete tenere comunque aperti i due file adesso andiamo a vedere come passarci i file da quindi lo stile da Photoshop all'HTML per farlo avremo bisogno di passare spesso da Photoshop al software che stiamo utilizzando quindi da Photoshop nel mio caso a Dreamweaver questo era il template che avevo creato che possiamo vedere che è fondamentalmente diviso in 5 parti quindi abbiamo l'intestazione col menu un'immagine principale il contenuto un menu per il footer e un altro footer con il copyright e l'informativa sulla privacy quindi abbiamo il sito web diviso in 5 sezioni e dovremmo fare la stessa cosa in HTML quindi andarci a creare 5 sezioni per il sito web dovrebbe essere già diviso anche nel HTML scusate nel PSD quindi abbiamo già le cartelle che dividono in realtà qui sono divise in 3 sezioni perché ho l'intestazione ho il main e il main che contiene sia l'immagine che il contenuto in questo caso ho all'interno del main banner e container e poi ho il footer che è diviso ulteriormente in widgets e copyright quindi comunque ho la struttura divisa prima in 3 blocchi e poi ogni blocco a 2 sottoblocchi questo ovviamente possiamo sia farlo anche in HTML quindi ci creiamo un blocco main e al suo interno un blocco banner e un blocco container oppure possiamo fare direttamente 5 blocchi diciamo che visto che abbiamo creato questo stile per il PSD seguiamo lo stesso stile quindi andiamo adesso a crearci un header quindi un'intestazione per il nostro sito web quindi ritorniamo in HTML e all'interno di body ci creiamo il primo div come detto in Photoshop lo abbiamo chiamato header e al suo interno ha logo e menu quindi ritorniamo qui e il blocco lo chiamiamo header quindi id uguale header e al suo interno creiamo un div id logo e un div id l'uguale lo dimentico sempre menu allora manca qualcosa no ok sono allineati male perfetto quindi abbiamo i due blocchi adesso direi di crearci comunque intanto già tutta la struttura quindi poi abbiamo un div id main che al suo interno ha un div con id banner e un altro div con id era container mi sembra che fosse container poi abbiamo un altro div con id footer questo lo devo andare a rivedere perché non mi ricordo il contenuto e al suo interno abbiamo widgets e copyright quindi ritorniamo qui e quindi al suo interno abbiamo un div con id widgets e un altro div con id copyright possiamo salvare con ctrl s quindi abbiamo al momento ricreato la struttura che ovviamente non è la stessa del psd perché ancora non gli abbiamo assegnato lo stile però comunque abbiamo già creato la nostra struttura delle così come abbiamo le cartelle all'interno dei livelli psd adesso iniziamo a assegnare gli stili così come li abbiamo creati nel file psd ritorniamo su photoshop e partiamo ovviamente dall'header quindi dall'intestazione quindi chiudiamo al momento footer ritorniamo su header qui abbiamo il logo il menu e lo sfondo quindi partiamo semplicemente dallo sfondo facciamo click con il tasto destro sul livello sfondo e clicchiamo su copia css ritorniamo sul nostro software quindi nel mio caso su dreamweaver andiamo su stile css e incolliamolo non me l'ho incollato salviamo ok credo che sia un bug di dreamweaver ok non me l'ho incollato ma dopo aver salvato e essere tornato alla pagina c'è ok quindi in questo caso abbiamo sfondo header che ovviamente non è lo stile che interessa a noi perché non abbiamo da nessuna parte la classe sfondo header in realtà possiamo tranquillamente andare a aggiungere la classe sfondo header al nostro div oppure possiamo cambiare lo stile quindi invece di sfondo header gli diamo un id header nel nostro caso sì non ci serve avere la classe sfondo header quindi la cambiamo in id header salviamo salviamo anche qui vediamo ok devo dire che dreamweaver sta dando un po' di problemi nel riconoscimento nel riconoscimento del codice comunque se facciamo clic col tasto destro su indice apri nel browser e lo andiamo ad aprire abbiamo già il nostro stile funzionante però non capisco per quale motivo dreamweaver non lo sta visualizzando provo a chiudere e riaprire dreamweaver e continuo il video perché comunque volevo farvi vedere in vediamo se ok dal vivo è attivo attiviamo progettazione però dovrebbe ok ora c'è non non aggiorna in tempo reale le modifiche provo a riavviare e riprendo il video perché volevo farvi vedere comunque in tempo reale le modifiche perché se devo aprire ogni volta il browser rallenta un po' il video quindi metto un attimo in pausa il video e riprendo ok ho riavviato dreamweaver vediamo se ora il problema è risolto altrimenti continueremo a vedere dal browser perché non non capisco per quale motivo continuo a dare questo errore comunque ritorniamo adesso su photoshop e adesso ci andiamo a prendere il logo quindi tasto destro sul logo scusate selezioniamo il logo tasto destro sul livello copia css ritorniamo sul nostro software sul nostro editor andiamo sugli stili css tasto destro incolla anche in questo caso lui ci da il nome del livello infatti se vediamoci da una classe chiamata claudio masci e se andiamo a controllare su photoshop ovviamente vediamo che il livello si chiama claudio masci se io se io andassi a rinominare questo livello in logo ad esempio ovviamente avrei sul mio editor quindi su dreamweaver avrei una classe chiamata logo al momento comunque non ci interessa perché tanto ce le modifichiamo da soli quindi andiamo a chiamarla logo va bene anche la classe cioè possiamo lasciarla così e torniamo adesso all'html quindi abbiamo l'id logo rinominiamola in classe quindi comunque scusate in id salviamo e andiamo ad inserire nell'id nel div logo il il testo che vogliamo visualizzare quindi claudio masci vediamo che viene già gli viene già assegnato il font e tutte le impostazioni che abbiamo su photoshop perché se le va a prendere dal file dalle impostazioni css che gli abbiamo passato quindi viene preso automaticamente ovviamente nel mio caso funziona perché io il font ce l'ho sul computer se non dovesse essere così dobbiamo allegare il carattere al nostro css quindi dobbiamo comunque registrare questo carattere salviamo e andiamo avanti con il menu in questo caso la situazione cambia leggermente perché non abbiamo un semplice testo ma ritorniamo su photoshop abbiamo un blocco quindi un menu che dovrà contenere varie voci quindi non abbiamo un testo che possiamo copiare ed incollare in questo caso ci selezioniamo non la singola voce quindi non ogni singolo livello ma ci selezioniamo proprio la cartella menu tasto destro copia css quindi copiamo tutto il blocco del menu ritorniamo in su dreamweaver e in questo caso prima di farlo ci creiamo però il nostro menu in html quindi creiamo un unordered list con vari fatemi aggiustare l'indentazione con vari list item erano mi sembra quattro voci intanto creiamo le quattro voci la prima era sicuramente home vado a ricontrollare su photoshop home notizie chi sono e contatti quindi abbiamo home notizie chi sono e contatti salviamo ok adesso intanto ho notato che funziona l'aggiornamento in tempo reale ovviamente se controlliamo è sbagliato il menu perché ce lo allinea sulla sinistra e non ci da nessuno stile andiamo quindi ad incollarci lo stile css che abbiamo preso da photoshop quindi dalla cartella menu tasto destro incolla possiamo vedere che lui ci crea la voce menu che è quella della cartella e poi ci crea la voce per ogni elemento del menu al momento lasciamo così le impostazioni e regoliamoci solo con il menu quindi abbiamo l'id menu per il div e la voce menu al momento vediamo cosa succede cambiando semplicemente il menu quindi salviamo vediamo che non cambia assolutamente nulla per sicurezza possiamo anche provare ad avviare dal browser e vediamo cosa succede sul browser vediamo che rimane comunque tutto così come era prima questo perché ovviamente al suo interno c'è una Nord Red List che non ha uno stile volendo noi potremmo applicare l'id alla Nord Red List piuttosto che al div ma anche in questo caso possiamo vedere che comunque non cambia nulla quindi non non viene riconosciuto in questo caso il menu quindi non viene allineato correttamente perché in questo caso è diverso il funzionamento quindi non è semplicemente un div che possiamo andarci a regolare ma dobbiamo andare a modificare proprio le impostazioni quindi ritorniamo con l'id sul div quindi menu lo impostiamo sul div e non sulla Nord Red List e ci andiamo a regolare il CSS in modo da allineare intanto sulla destra il menu e non sulla sinistra per cominciare quindi dobbiamo andare a correggerci alcune impostazioni che sono sbagliate del file CSS quindi alcuni dati che gli abbiamo passato che Photoshop ha passato in modo errato intanto questo si può fare solo da Dreamweaver quindi se usate un altro editor non lo vedete perché ci serve la visualizzazione in tempo reale possiamo vedere che se selezioniamo header ci mette un rettangolo blu intorno a tutta l'intestazione ed è corretta perché l'header è questo se selezioniamo logo vediamo che ci evidenzia il logo se selezioniamo menu ci evidenzia tutto il documento quindi c'è un errore intanto nel div menu andiamo sul CSS e vediamo intanto che ci ha dato già width ed height quindi ci ha dato larghezza ed altezza 1920x1920 che assolutamente non va bene perché non deve essere a pagina intera quindi per il momento cancelliamo e salviamo ritornando sull'index adesso possiamo vedere che menu ora è semplicemente questo riquadro qui con il menu che già è più corretto quindi già non è più a pagina intera quindi va semplicemente all'interno dell'header che è quello che deve fare quindi deve essere all'interno dell'header ora dobbiamo allineare le voci su una sola riga quindi non una sotto l'altra quindi non in colonna ma sulla stessa riga andiamo quindi adesso a crearci una classe e la possiamo chiamare menu sito tutto minuscolo e andiamo ad assegnare questa classe a questa classe un tag display in line in questo modo mostriamo tutti gli elementi su una sola riga quindi classe ho messo uno spazio si menu underscore sito li quindi a tutti gli elementi li di questa classe gli assegniamo display non l'ha preso ok display in line salviamo torniamo indietro e possiamo vedere che adesso abbiamo già gli elementi allineati quindi abbiamo tutti gli elementi su una sola riga ovviamente non non hanno ancora il loro stile questo glielo possiamo assegnare poi prendendolo da qui però al momento andiamoci semplicemente ad aggiustare il menu quindi andiamo semplicemente a spostarlo sulla destra e ad adattarlo poi lo stile per ogni list item glielo andiamo a dare dopo al momento quindi spostiamo tutto il menu sulla destra quindi andiamo non mi seleziona più il menu andiamo ok andiamo nello stile e andiamo a modificare due impostazioni intanto togliamo il left quindi non lo allineiamo a destra ma lo allineiamo scusate non lo allineiamo a sinistra ma lo allineiamo a destra dandogli però 10 pixel altrimenti è attaccato troppo al menu di destra invece scusate al bordo di destra invece così gli diamo 10 pixel di spazio salviamo e andiamo a vedere che adesso è allineato correttamente a destra c'è ok c'è questa barra che non dovrebbe esserci voglio vedere le dimensioni del dell'eader ok midawid 1920 pixel impostiamo 100% di larghezza ho messo un punto e virgola di troppo in questo modo si adatta allo schermo quindi ovviamente photoshop non passa le dimensioni in modo corretto ma passa quelle del nostro documento quindi alcune cose le dobbiamo riadattare in questo caso la larghezza dell'eader ovviamente non può essere 1920 pixel perché non può essere standard per qualsiasi documento ma deve essere adattata alla nostra necessità quindi in questo caso la passiamo da 1920 pixel a 100% in questo modo abbiamo il menu che si adatta a qualsiasi schermo quindi le dimensioni dello sfondo si adattano a qualsiasi risoluzione possiamo vedere già che abbiamo quindi logo e menu già pronti ovviamente il menu va adesso configurato quindi gli va dato la grafica corretta intanto visto che sono arrivato già a 20 minuti quindi probabilmente questo articolo questo video lo farò in due parti la seconda parte sarà molto più veloce perché in questa comunque c'è stata un po' un'introduzione e varie cose quindi la seconda parte anche se contiene maggiore contenuto quindi maggiori cose da modificare sarà più veloce rispetto a questa prima parte nella quale probabilmente vedremo solo le header intanto andiamo avanti e quindi andiamo a configurare e personalizzarci anche i vari list item in realtà è davvero molto semplice perché abbiamo già tutto qui quindi abbiamo già la configurazione all'interno delle varie voci se vediamo sono praticamente tutte identiche tra loro l'unica differenza è left top quindi ci dice dove devono essere posizionati al momento quindi cancelliamo tutte le voci e ne teniamo solamente una che va benissimo anche contatti rinominiamo da contatti a voce menu togliamo left top perché non ci interessano togliamo anche position e z index quindi lasciamo semplicemente font size font family color rgb e line 8 quindi salviamo e andiamo a dare ai vari list item la classe voce menu quindi diamo a tutti i list item la classe voce menu salviamo ritorniamo su photoshop per vedere intanto la differenza intanto possiamo vedere ovviamente in questo caso è ridotto quindi andando a zoomare poi le dimensioni sono quelle intanto c'è molto più spazio tra le varie voci quindi dobbiamo assegnare uno spazio tra le voci non sono così attaccate tra di loro in questo caso ci basterà semplicemente andare sullo stile css in realtà facciamolo da qui così abbiamo la modifica in tempo reale per quanto riguarda la voce menu assegniamo anche un padding write di 30 pixel forse anche 40 in questo modo diamo più spazio tra i vari elementi in questo caso non ci serve più il write da 10 pixel e possiamo impostarlo a 0 in questo modo avviciniamo un po' di più il menu sulla destra possiamo salvare tutto e ritornare al codice di origine e andarci ad assegnare adesso i link alle varie voci quindi ai vari list item gli possiamo assegnare un link andiamo quindi ad inserire un tag a href al momento mettiamo semplicemente un hashtag chiudiamo home lo spostiamo qui facciamo intanto la stessa cosa per tutto e poi andiamo a correggere notizie chi sono e contatti perfetto adesso la classe la spostiamo da list item a a quindi la spostiamo qui anche in questo caso la spostiamo qui qui e qui possiamo toglierla da da tutti i list item ok adesso andiamo a togliere la sottolineatura dai nostri link quindi dal css salviamo e andiamo sullo stile css per togliere la sottolineatura dalla nostra voce del menu andiamo quindi nel css e aggiungiamo un text decoration non in questo modo andiamo a togliere la decorazione non so per quale motivo sono allineati malissimo ok mi riallineo così ok quindi abbiamo un text decoration non e invece adesso andiamo ad aggiungerla nel caso in cui l'utente vada col mouse sulla voce quindi nel caso in cui sia selezionata invece aggiungiamo la sottolineatura per farlo ci basterà aggiungere al foglio di stile css voce menu due punti hover quindi nel caso in cui l'utente vada col mouse sulla voce e text decoration underline quindi in questo modo quando l'utente va sulle voci vengono sottolineate per vederlo tasto destro apri nel browser apriamo su vivaldi e possiamo vedere che quando vado sulle voci vengono sottolineate in questo modo il menu è completo ovviamente possiamo mettere linkabile quindi cliccabile anche la voce di menu ma abbiamo il tasto home quindi non è necessario quindi possiamo tranquillamente lasciarla così ovviamente se volete farlo quindi se volete mettere anche il logo cliccabile il funzionamento è lo stesso che abbiamo visto per le voci di menu quindi la classe va assegnata al ahref e quindi non al div come detto per il momento ci fermiamo qui perché il video è venuto abbastanza lungo pensavo di metterci meno tempo invece mi sono dilungato abbastanza cercherò comunque penso la settimana prossima di fare la seconda parte quindi a breve vedremo la seconda parte che come detto cercherò di renderla un po' più veloce sarò un po' meno prolisso nel parlare quindi cercherò di andare dritto al punto per completare quindi questo video per il momento quindi vi ringrazio per averlo seguito e per averlo richiesto se avete qualsiasi dubbio richiesta domanda scrivetemelo come sempre nei commenti e cercherò di accontentarvi comunque nella seconda parte del video quindi se volete vedere qualcosa in particolare scrivetemelo e nella seconda parte del video e la vedremo insieme per il momento non vi metto il risultato finale quindi non vi metto il file html css nell'articolo lo metterò nel prossimo articolo quindi vi metterò quello finale quindi quello completo nel prossimo articolo quindi per il momento non vado ad inserire quello che abbiamo visto oggi quindi vi ripeto per il momento è tutto vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo e ci vediamo al prossimo